Presidente della famiglia dianese, quest'anno il carnevale è un po' festivaliero, quali sono i temi dei carri? Quest'anno vi proponiamo un bel carro che è la Sirenetta, Harry Potter, App, la Barbie, quest'anno va di moda, è un carro sugli dei, ovviamente è uno scherzo goliardico, e sempre oggi le batabuse combattono contro i re, ci sarà un'olimpia bellissima, come è caro anche lui, e poi questo carro nuovo che verrà diviso a palco, che verrà usato sia per i 10 e anche per presentare il carnevale.